Si comincia In giallo il Verona, in nero il Borussia Dortmund Seconda giornata Il Vesco Il Vesco Il Vesco Il Vesco Il Vesco Mario è più sinistra La Parano Mario Mario Per destra, dietro, dietro. Uno dietro, ragazzi, uno non superi il centrocampo. Uno dietro, uno dietro. 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 Uno dietro, uno dietro.